Prima faccio la prima dimostrazione del principio del turismo, che è una dimostrazione logica, ma secondo me è anche molto efficace, semplice ma efficace. Allora, se io vi dico che questa è una penna, mentre lo dico lo dimostro, perché voi la vedete che è una penna, giusto? Vi dico che questo è color bianco, mentre lo dico lo dimostro, no? Perché lo vedete che è bianco. Mentre vi dico che se guardate qui lo vedete dritto, questo è facilissimo, lo vedete che è dritto. E lo dimostro mentre lo dico. Meglio vi dico che se guardate qua, questo lo vedete leggermente curvo, con uno sforzo mentale di cui parlavo prima, mentre lo dico lo dimostro. Vi faccio un esempio. Se voi mettete qua la finestra, questa è una finestra abbastanza larga, vabbè. Voi guardate fuori dalla finestra, cercate di capire come vedete queste due linee, anche queste. Sapete come si vedono? Guardate qui, è facile, è mica difficile da essere conto, perché i limiti dei battenti sono ben delineati. La finestra si vede così. Se voi fate lo sforzo mentale, guardando fuori, ci sono degli abetti, ci devi spostarlo, da lì non lo vedete niente. E ci sono quelle sbarre lì, le sbarre le vedete? Quelle che passano per il punto guardato sono dritte. Tutte le altre si inculgono così. Guardate se a casa lo fate anche qua, qua è difficile, sapete perché? Perché ci sono gli alberi che coprono il cielo. Quando il cielo è tutto illuminato, la finestra è scura, vedete benissimo, guardando fisso senza spostare lo sguardo, vedete benissimo che la finestra è così, davvero, è facilissimo. Quindi, io mentre vi dico che guardando fuori la finestra, vedete quel modo, ve lo dimostro anche perché lo potete vedere, vedete qui, vedete qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.